Il posto ordinario che sta perversando lo sport del nostro territorio negli ultimi due anni che ha portato nei grandissimi risultati a livello nazionale, europeo e due poli mondiali. Sicuramente dico sempre che tutto questo non arriva mai per caso, c'è sempre lo spirito di sacrificio che gli azleti ne fanno uno stile di vita e grazie a tutti i volontari e senza di loro non si potrebbero arrivare a certi preguardi e sicuramente anche noi dobbiamo fare la nostra parte cercando di dare le strutture idonee, adatte, perché loro possano sicuramente lavorare bene. Insieme al geometra Zocca e insieme a Ferdinando Giordano, entrambi i mettoni, anche mio papà, loro avevano due sere alla settimana tre e quattro anni. Quindi mio padre usciva con la steca da migliardo nella sua custodia e il figlio del mio vicino vedendolo una sera gli disse vatti a pescare, vai a pescare, vai a pescare, vai a pescare, ed è un ricordo che vi ho portato dentro con me. Quindi grazie che mi hai aiutato a ricordarlo e grazie ancora alla Rocciuffila che aveva voluto fare a memoria per il figlio del mio padre. Grazie. 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 Grazie.